La mia famiglia Assoquadro Azione! La mia famiglia Assoquadro è un film che ha sicuramente un pitch molto originale e la diversità viene completamente ribaltata una famiglia tradizionale che ha dei valori e qui viene vista come un difetto Martino è un bambino che si sente diverso proprio perché ha una famiglia troppo normale e quindi decide di distruggerla, di metterla a soquadro Siamo la famiglia Manetti C'è Teo il più piccolo C'è Gabriele che è il più grande C'è mamma Anna E c'è Pappo Carlo Funzionario di banca Una persona precisa Gli basta una vita regolare Una famiglia che si vuole bene Probabilmente è questo il nocciolo della questione Noi ci vogliamo troppo bene Nel film La mia famiglia Assoquadro Io sono Anna Una mamma innanzitutto Di Martino e di Teo Ed è una moglie La moglie di Carlo Una donna giovane che però ha sacrificato un po' tutti i suoi sogni Le sue aspettative per la famiglia E a un certo punto un incidente di percorso La obbligherà a rivedere queste sue scelte E forse anche a riscoprire se stessa Il nostro protagonista Il nostro numero uno Mi dispiace molto anche perché devo lasciare tutte queste persone che mi sono state vicine per tutto questo mese E che mi sono trovato veramente molto bene su questo set Anche perché questa è la mia prima esperienza cinematografica Ed è un onore per me aver collaborato con questa gruppa fantastica Io sono la mamma della protagonista Che è Anna Madre di due bambini E sono un'attrice di Broadway Sono una donna estroversa Che evidentemente deve essere stata onerosa per sua figlia Perché è piuttosto esuberante Però le vuole molto bene Il personaggio di Nonna Fiore Sarà quella che a sua figlia Getterà un dubbio Circa la colpevolezza del marito Io sono anche grata di aver ricevuto questa proposta Perché il regista ha molto insistito Avendo io il ruolo di questa diva di Broadway Perché portassi avanti un certo Se vogliamo una certa immagine Che è legata a molti anni fa Quindi mi ha divertito attualizzarla Da donna molto grande oggi Da nonna Cioè una nonna Giorgi Max è un regista È già all'opera seconda Si vede che lo sa fare Poi ha una grande qualità Che è quella di ascoltare tutti Perché il regista secondo me Quello che è proprio al servizio del film E di tutti quelli che collaborano a questo progetto Molto maturo Se sembra un regista che ha fatto molti più film Che un altro anno ne abbia fatti fino a questo momento Io ti ha detto Paola Una donna che ha fatto carriera nella moda Quindi ha lasciato tutto Dedicandosi esclusivamente al lavoro Quindi si rende conto Che ha lasciato le cose più importanti Una cerca di riprendersi Credo che la forza di un film Sia innanzitutto la sceneggiatura E questa è davvero una bella sceneggiatura Che ha conquistato tutti In un primo momento Devo dire che su questo set Si è creata veramente Un'energia esplosiva Perché tutti quelli che hanno partecipato L'hanno fatto col cuore Divertendosi E con la voglia proprio di fare un bel lavoro Un'energia esplosiva Che finisce? Nel'energia esplosiva Grazie.